Per gli speciali dell'aperitivo del Carnevale di Viareggio siamo in compagnia di Francesco Nanei dell'azienda NT Food, risposte alimentari oltre il senza glutine e avete due linee di prodotto Nutri-Sì e Nutri-Fì, che vuol dire? Allora noi siamo un'azienda specializzata da anni esclusivamente nella produzione di senza glutine, questi sono i nostri due marchi con i quali presidiamo il mercato il marchio Nutri-Fì è il marchio storico dell'azienda, quello che è presente nel canale specializzato, quindi farmacie e negozi specializzati che sono il canale storico dei celiaci dove gli intolleranti al glutine acquistano i loro prodotti e poi il marchio Nutri-Sì che è il canale con il quale siamo presenti appunto in GDO e nell'Orica, quindi nel mondo del food service ed è un marchio più giovane che va a completare la nostra reperibilità sul territorio Bene, molto bene, da sempre amici dell'aperitivo del Carnevale di Viareggio voglio ricordare che questi prodotti sono senza oli di palma, con olio d'oliva, fatti come si deve insomma Sì, sono prodotti non solo senza glutine ma con un contenuto nutrizionale molto importante la presenza dell'olio extravergine d'oliva al posto dell'olio di palma, il senza lattosio, l'attenzione a tutta la tabella nutrizionale del prodotto e anche il monodose che facilita il consumo del celiaco e non solo, anche nel fuori casa quindi se lo può portare dove vuole e quando si trova appunto nelle sue attività fuori casa Bene, grazie! Aperitivo del Carnevale di Viareggio, Gli Speciali, è stato con noi NT Food Risposta alimentare oltre il senza glutine Nutri sì e nutri free